Per le tue vacanze al mare, scegli l'Hotel Continental. Tutte le nostre camere sono dotate di un grande balcone con affaccio direttamente sul mare, accesso diretto alla spiaggia, animazione per adulti e bambini, piscina privata di oltre 1500 metri quadrati, centro benessere e tanto altro ancora. Ti aspetta all'Hotel Continental. Inoltre, avrai uno chef a disposizione per i tuoi menu personalizzati. Cosa aspetti?